Il campionato di Oberdan Biagioni contro l'Udinese, il campionato è quello 90-91, guardate Biagioni non si coglie in pieno da queste immagini la bellezza del suo tiro, d'esterno destro sorpreso Giuliani, portiere nazionale, campione d'Italia con il Napoli di Maradona. Un'altra punizione stavolta è di Gigi Marulla, è una bomba che si infila all'incrocio dei pali alla sinistra del portiere del Taranto, questo invece è Ciccio Marino, oggi ha messo giacca e cravatta e fa il direttore sportivo, avete visto un colpo di testa in tuffo, li faceva invece in maniera diversa, i gol Gigi De Rosa, ecco una sua realizzazione con la Lucchese, il tiro dopo uno slalom nel campionato 91-92. Qui invece siamo nel 95-96, il primo derby trasmesso oltreoceano, Cosenza-Reggina, quell'anno partita Telepiù e quindi la prima pay per view italiana, questi è Cristiano Lucarelli, avete visto anche la sua realizzazione, un Lucarelli appena ventenne come ci ricorda la grafica di Telepiù, in quel caso una partita che fu trasmessa anche da Rai America, seguita dai tifosi del Cosenza e della Regina, per carità anche negli Stati Uniti e in Canada, però sia gli uni che gli altri, videro soltanto i gol del Cosenza, Cosenza che si impose quell'anno per 2-0 e questo fu il secondo gol Alessio per Lucarelli e poi Lucarelli fece tutto lui, guardate un po', la prima Veronica fece andare fuori il difensore della Regina e poi il gol Scarpi non riuscì a farci proprio niente. Questo invece è il capitano di quest'anno, si tratta di Tommaso Tatti, siamo al San Paolo contro il Savoia, campionato di Serie C, 97-98, la realizzazione di Tatti dopo che si era smarcato con Monza, questo è il suo dribbling e poi il tiro che va a battere Nucciari, portiere del Monza, quasi all'incrocio dei pali, rivediamo Michele Padovano che si allarga e poi esplode il suo sinistro che non lascia a scampo l'avversario. Bergamini inizia quest'azione che si conclude con questo tiro di De Rosa, la rete a Parma del Cosenza, guardate Gigi De Rosa che vede fuori dai pali il portiere e lo batte con questo pallonetto. Ora siamo ancora in trasferta, il gol è di Gigi Marulla che riceve da muro, non ci pensa neanche un secondo ed ecco la sua rovesciata con palla in rete, ancora fuori casa, ancora Monza, di nuovo Michele Padovano e guardate il suo sinistro al full micotone, aveva un conto aperto con il Monza, Michele Padovano, gol segnati ovviamente in campionati diversi, ecco il tiro da fuori area e la rete, questo invece è un gol di Gazzaneo, Francesco Gazzaneo, la partita finì 7 a 4 e lascio a voi ricordare il campo, la rete di Gazzaneo per il Cosenza, comunque molto bella. Oberdan Biagioni anch'esso in trasferta, a Cremona il suo calcio di punizione, questo invece è Ugo Napolitano al San Vito, ancora la curva era in costruzione, la nuova curva nord dello stadio, guardate il Marcantonio Napolitano che si alza e non c'è proprio nulla da fare per gli avversari, la partita era Cosenza-Lecce. Di nuovo Gigi Marulla prende palla in area, il suo slalom, anche il portiere saltato e la palla che termina in rete, lo rivediamo, merita il replay, guardate un po' come semina gli avversari e palla dentro. Questo è l'ultimo gol della carrellata che vi mostriamo oggi, viene ripresa la palla fuori area da Giorgio Venturin che esplode poi questo destro con la curva che ancora non era neanche nei sogni, il suo gol contro ancora una volta il malcapitato Monza. Era la rete, la partita di Massimiliano Catena, la di Milo Caramel gli dà la palla, lui si guarda intorno e poi esplode questo destro, siamo nel 92-93 contro la Ternana, riguardiamo l'esecuzione splendida di Catena. Purtroppo quella, dicevamo, fu la sua ultima partita e allora riviviamo con lui i momenti di gioia dopo quel gol. Nello stesso campionato questa rete di Marco Negri contro la Spal, una splendida esecuzione, la palla addirittura gli arriva da un fallo laterale e guardate Negri cosa fa in mezzo a due avversari, si capisce perché poi abbia fatto tutta quella strada. E ce n'è un altro che ha fatto anche tanta strada, Gianni Bia, il suo gol di testa quasi dal limite dell'aria è piazzato, niente da fare anche in questo caso per il portiere. Campionato successivo, il cross di Sconziano ma la rete è di Evangelisti alla sua prima partita con la maglia rosso-blu, un siluro imprendibile per il portiere avversario, Cosenza Modena, la rete di Evangelisti che davvero non lascia scampo al portiere e poi la gioia del centrocampista che si conclude tra le braccia di Fausto Silipo. Prima partita in notturna in Pay TV per il Cosenza, la rete di Vladimiro Caramel contro il Bari. 93-94, Cosenza-Vicenza, questo tiro è stato scoccato da Antonio Sconziano, riguardiamo. Palla imprendibile all'incrocio. 93-94, il campionato sta per concludersi, Stefano Fiore per Gigi Marulla e Marulla dà la certezza matematica della permanenza in Serie B. Saltiamo ancora di un campionato, andiamo al 94-95, Giovanni Paschetta di testa, un giovanissimo Paschetta, mette la palla in rete ad Ancona. E poi l'ultimo gol di questa nostra sequenza lo segna Enrico Buonacore dal limite dell'area, gli appoggia la palla Marco Negri e Buonacore di sinistro mette in rete. Un gol che a nostro giudizio meritano di essere segnalati, questo è un gol di Marco Negri in Cosenza a Cireale, avete visto la torsione di Negri, è stata fantastica, nulla valgono le proteste di Amato che in quell'anno, 94-95, giocava con la Cireale. Ancora Marco Negri, stesso anno a Venezia contro la squadra locale, guardate un po' cosa fa sul colpo di testa di Monza che forse non pensava che il suo passaggio potesse finire così. Qui invece c'è una progressione di un signore che conoscete ancora oggi con la maglia rosso-blu e Tommaso Tatti nel suo primo anno a Cosenza, sulla panchina c'era Bortolo Mutti, 95-96, parte Tommaso dalla tre quarti e non lo ferma più nessuno, la palla va in rete contro l'Ancona. Festeggiamenti per il capitano del Cosenza nel 2000, Tommy Tatti, stesso campionato, Angelo Alessio contro la sua ex squadra, contro l'Avellino, Alessio prende palla e dal limite dell'area fa secco il portiere. Andiamo avanti di un anno, 96-97, Tommaso Tatti allo stadio delle Alpi, il suo pallonetto fa secco il portiere, Torino-Cosenza 0-1, poi finirà diversamente. Questo è Stefano Gioacchini, anche in questo caso una progressione imperiosa contro il Foggia, nulla da fare per il portiere dopo che, guardate, Gioacchini ruba palla al suo avversario e poi pallonetto e gol. Una delle ultime partite di quel campionato, Cesena-Cosenza, Guidoni, servito da Alessio, mette in rete, palla all'incrocio dei pali, Cosenza si portò addirittura in vantaggio di due gol ma non riuscì a vincere quella partita. Qui siamo in una gara di Coppa Italia, all'Olimpico di Roma, la rete è di Vincenzo Riccio, guardate questa rovesciata fantastica e Riccio ne ha segnato pochi di gol ma tutti belli, qui al San Paolo di Napoli, il cross di Moscardi e la rete di Riccio contro la squadra della sua città, la sua squadra del cuore. Festeggia Riccio, quello tra l'altro era il suo primo gol in carriera, il lancio di Moscardi e il tiro al volo di Riccio con palla che si insacca imparabilmente, il Cosenza vinse 2-1 al San Paolo e fu grande festa per i tifosi rosso-blu.